Contaminazione affassa anche sui bambini di San Bonifacio, il comune fuori dall'area dell'allerta sanitaria, chiede il monitoraggio. Nuovi esami del sangue dimostrano come i composti chimici abbiano colpito anche l'organismo dei bambini. Le analisi sono state fatte da un comitato cittadino di San Bonifacio, comune veronese, che non è inserito tra quelli dove è scattata l'allerta sanitaria. Il sindaco chiede alla regione di rientrare nel piano di monitoraggio. Il servizio di Matteo Mokorovicic. Non voglio fare allermismo e neanche accusare nessuno. Cerco solo di avere delle risposte e capire il perché di questi valori e nient'altro. Franco è il padre di un bambino di 7 anni che vive a Lobbia, frazione del comune veronese di San Bonifacio. Suo figlio ha 6,8 nanogrammi di pfoa per millilitro di sangue, quando il massimo non deve superare un intervallo tra 1,5 e 8. Il valore è al limite, ma d'esta preoccupazione soprattutto per due aspetti. Perché si tratta di un bambino e perché si parla di San Bonifacio, comune fuori da ogni area di allerta sanitaria per quanto riguarda la contaminazione da PFAS. Il comitato di Lobbia su questo aspetto si batte da tempo. Aveva effettuato privatamente un primo gruppo di analisi su tre persone a campione ed era emerso che in tutti e tre c'erano PFAS nell'organismo. Tra di loro anche un bambino di 4 anni. Ora, d'accordo con il comune, hanno fatto altri esami e sempre su bambini. Tre in tutto e tutti hanno PFAS. Due intorno a 1,5 nanogrammi e poi c'è il terzo, 6,8. Comitato e sindaco ora vogliono capire perché. San Bonifacio confina con Lonigo, epicentro dell'area contaminata, ma l'acqua è filtrata da sei anni prima che scoppiasse il caso PFAS. Se l'acqua è pulita, come si spiegano allora i valori degli esami, si chiedono. La richiesta alla regione è di essere inseriti nel piano di monitoraggio sanitario, come Montecchio e i comuni confinanti alla zona rossa. I dati che sono usciti da queste analisi ci suggeriscono che dobbiamo comunque noi insistere per avere la giusta attenzione. Scriverò nuovamente alla regione perché perlomeno si è inserito una parte di persone a campione, soprattutto della frazione di lobbia, per valutare e andare in fondo a questa questione per tranquillizzare i cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.